medico e filantropo croce materializzata presso il cerchio e seno questo cenacolo ha ricevuto attraverso il medium nt più di 4.500 apporti in più di 42 anni di attività alcuni dei maestri che si sono succeduti negli insegnamenti del cenacolo si chiamano raggio il pensatore il mediatore il cerusico quest'ultima entità che opera guarigioni attraverso lo strumento in trance sembra sia stato albert speitzer 1875 1965 medico e filantropo pastore e missionario luterano franco tedesco nato in alsazia nel 1913 speitzer premio nobel per la pace nel 1952 fondò all'ambare né nella parte occidentale del gabon il suo celebre ospedale attualmente l'ospedale speitzer ha numerosi reparti e un centro di ricerca medica per la malaria